Vorremmo parlare con la WISP di sport per i ragazzi. Perché? Perché l'Istat ci ha certificato che in Italia è grasso un bambino su quattro. Questo è dovuto a problemi di alimentazione, è dovuto a scarso movimento. La WISP ha dei progetti, appunto uno dei quali si chiama Diamoci una mossa e poi ne è nato un altro Ridiamoci una mossa, che cercano di diffondere la buona cultura alimentare ed anche la cultura dello sport o comunque del movimento. Perché poi non è necessario essere dei campioni o voler fare per forza delle gare o arrivare chissà dove. Ma l'importante è muoversi, l'importante è giocare, l'importante è fare delle cose durante la settimana. Diciamo che questa notizia di un bambino grasso su quattro è una notizia piuttosto allarmante. Va anche detto che è un po' meglio di quanto era, perché nel 2010-2011 erano il 28,5%. Quindi siamo un po' scesi al 25%. Comunque resta un dato allarmante, ma ne parliamo. Ne parliamo con Tiziano Pesce, che finalmente abbiamo rintracciato, vicepresidente della WISP. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Buongiorno ai radioascoltatori. Allora, noi abbiamo un po' anticipato che voi avete due progetti. Uno storico che è Diamoci una mossa e dal successo di questo è nato Ridiamoci una mossa. Qual è appunto l'obiettivo? L'obiettivo immagino sia farli muovere, ma come? Con che strumenti? Pensavamo che l'obiettivo fosse rispondere al telefono. Sì, 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 assolutamente. Ma diciamo che, l'avete detto voi, l'Istat ci riconsegna in questi giorni dei dati di assoluta preoccupazione. Vogliamo però essere positivi e leggere anche, diciamo, l'importanza dello sport, dell'aumento della pratica sportiva negli ultimi anni che ha fatto diminuire il dato percentuale dei bambini, dei ragazzi che non praticano attività sportiva negli ultimi anni. E pensiamo senza presunzione che associazioni come la nostra, come LUIS, ma anche altri enti di promozione sportiva abbiano in questi anni fatto la propria parte, lanciando, promuovendo non solo attività sportive, disciplinari, tradizionali, ma anche campagne di intervento, campagne di comunicazione. Diamoci una mossa che citavate poco fa, è per LUIS una vera e propria campagna di comunicazione nata intorno a metà degli anni 2000, proprio per promuovere nuovi stili di vita attivi per bambini e famiglie. Si parla ovviamente di attività sportiva, si parla di attività fisica, ma si parla anche di gioco e divertimento proprio come strumenti per coinvolgere i bambini e i ragazzi, mettendo insieme ovviamente quelle che sono le agenzie educative del nostro paese, a partire dalla scuola, la famiglia e l'associazionismo sportivo. Pensate che dal 2006 ad oggi questo progetto, che ha visto la partecipazione degli insegnanti e degli istituti scolastici, ha coinvolto quasi 500 mila bambini e quindi le loro famiglie. Abbiamo cercato, ecco, con un linguaggio semplice, con il linguaggio appunto dello sport, dell'attività fisica, di aiutarli a capire che il primo passo verso il benessere, la salute, potremmo dire così, è di fatto combattere la sedentarietà, promuovere il movimento e il gioco attraverso uno stile di vita e soprattutto uno stile alimentare corretto. Certo, beh, devono andare di pari passo, ma una volta che i bambini hanno a disposizione diciamo queste possibilità, diciamo che si lasciano coinvolgere volentieri o sono follemente attratti dai computer, dai telefoni e quindi fanno fatica magari a lasciare. Ovviamente in questi anni è cresciuto l'uso dei social, di internet, degli smartphone, quindi i nostri operatori, gli insegnanti hanno sempre bisogno di maggiore formazione, di maggiori competenze, però vediamo che quando il coinvolgimento avviene appunto sul linguaggio del gioco, sul linguaggio della corporalità, i bambini e i ragazzi si fanno coinvolgere assolutamente e dimenticano anche di utilizzare il smartphone, diciamo così. Eh, beh, magari, se lo dimenticassero. C'è un altro progetto in particolare che ci ha colpito, che nasce dall'Atlante dell'infanzia a rischio. Abbiamo visto i dati, i ragazzi soprattutto di famiglie meno abbienti, meno acculturate, che tendono poi ad avere problemi appunto di obesità. Questo è quindi tutta una galassia collegata, che va dalla povertà all'incultura. Cercate quindi di avere dei progetti specifici su questi adesso? Assolutamente. Intanto un altro dato fondamentale per un'associazione come la nostra è quello di fare rete sul territorio. Un'associazione come la nostra che è un ente di promozione sportiva, ma un'associazione di promozione sociale in un momento di profonda riforma anche normativa del sistema sportivo e del mondo della promozione sociale ci mette nella condizione di essere sempre più attenti a portare avanti i progetti in rete. L'esperienza che avete citato, quella dei dati consegnati da Seville Children appunto nell'Atlante dell'infanzia a rischio poche settimane fa, mette in evidenza un grande lavoro dell'ISP al fianco proprio di Seville Children sul tema della povertà educativa, con anche l'esperienza dell'organizzazione e della promozione dei punti luce proprio contro la povertà educativa nel nostro paese. Perché anche qua abbiamo un dato significativamente preoccupante, ossia negli ultimi dieci anni il dato dei bambini, dei ragazzi, dei minorenni che vivono in povertà assoluta è più che triplicato. Siamo passati da poco più del 12%. Siamo arrivati a poco più del 12,5% nel 2018. E partivamo dal 3,7% del 2008. Partivamo dal 3,7% del 2008. Siamo arrivati quindi ad avere oltre un milione e due di bambini, di ragazzi in povertà educativa. E i dati ci consegnano una situazione per cui spesso la povertà economica è proprio correlata alla povertà educativa. Uno degli indicatori studiati è proprio quello dell'attività sportiva, ossia un minore su 5 non fa sport e quasi la metà dei bambini non ha letto un libro extrascolastico in un anno.